Si è svolta questa mattina la presenza del Presidente Nazionale del CONI Giovanni Malagò la firma del protocollo d'intesa per fini turistici e sportivi tra i comuni di Pinarolo, Cantalupa e Cumiana. Il protocollo ha come obiettivo la realizzazione di iniziative a carattere sportivo, culturale e sociale al fine di valorizzare e promuovere il territorio del Pinarolese, mettendo a disposizione le numerose strutture alberghiere e spolisportive presenti nei comuni coinvolti. L'accordo della durata di 4 anni prevede un ricco programma di iniziative dedicate ad attività sportive e ricreative di vario genere. Questa mattina il Presidente Giovanni Malagò ha anche detto che questo protocollo può essere un ottimo trampolino di lancio per le Olimpiadi del 2024. Qui nelle strutture del Pinarolese potrebbero arrivare a prepararsi le nazionali. Qui c'è una grandissima tradizione di associazionismo, di volontari, di realtà che bisogna assolutamente gratificare. Complimenti all'iniziativa dei tre comuni, complimenti all'iniziativa di questi tre sindici che in effetti non si sentono in concorrenza, ci danno una grande mano e noi siamo molto felici, siamo orgogliosi di questa iniziativa. Quali sono secondo lei le potenzialità del Pinarolese sotto il punto di vista dello sport? Pavede, io penso questo, che in Italia esistono in questo momento 145 mila associazioni sportive distribuite sul territorio più o meno rispettando quello che sono la popolazione, la dimensione della regione e lo storico. Lo storico, mi spiego meglio, a Iesi è dimostrato che c'è una scuola di schermo, in particolare di Fioretto, dove è più facile uscire fuori. A Teviso magari c'è una storia di rugby o di pallacanestro o di pallavolo, parlo di territorio piuttosto che a Napoli di Fugilato o di Judo. Qui nel Pinarolese avete una fortissima polidricità, cioè siete molto polivalenti. Avete anche una storia di sport, se volete, storici, di sport tradizionali che si giocano spesso in Piemonte, che anche quelli sono una componente del nostro mondo e che magari hanno un'antica storia alle spalle, un'antica tradizione e che però magari hanno poco risalto. Oggi se siamo qui è anche per questo. A Teviso